Dal 5 al 9 maggio parte la quarta edizione del Festival Michael. Il Festival Michael è il festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e no gastronomico della città dei due siti Unesco. All'interno di questo festival abbiamo voluto inserire due importanti mostre. La prima dedicata ai tre sacri monti, Mont Saint-Michel, la Sacra in Piemonte e Monte Sant'Angelo sul Gargano, la mostra appunto intitolata Custos. L'altra importante mostra è l'iconografia dell'Arcangelo Michele nel Medioevo. Una mostra curata dalla professoressa Gioia Bertelli dell'Università di Bari e da Domenico Moretti dell'Associazione Centro Studi Storico-Archeologici del Gargano. Questi sono soltanto due degli appuntamenti inseriti nell'ampio programma del Festival. Il Festival che tra l'altro è suddiviso in quattro sezioni, una di queste sezioni è dedicata a Michael e la Legalità. Michael e la Legalità è un progetto più ampio, un progetto che parte nel 2018 insieme a tutte le agenzie educative del territorio, le scuole, le parrocchie, le associazioni, gli enti, un percorso che è partito a marzo e si completerà a giugno. 15 appuntamenti che hanno come scopo ultimo quello di cercare di cambiare, perché il cambiamento è solo insieme. Monte Sant'Angelo, il nostro claim, è appunto Monte Sant'Angelo una comunità organizzata. Questa mostra inaugura la rassegna Michael e la Legalità. Appunto San Michele che è rappresentato in tutto il mondo. La mostra tra l'altro ci farà fare un viaggio nel mondo, a partire dagli uffizi di Firenze, alla Basilica di San Marco a Venezia, al Museo Nazionale di Arte della Catalogna a Barcellona, al British Museum, Cipro, il Museo d'Arte del Cremlino, Matera. Segno questo che l'Arcangelo Michele da secoli è un'icona, oltre che per il mondo della Chiesa, anche per il mondo dell'arte e della cultura. Grazie. 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 Grazie.